Non c'è più niente da dire, il River Plate è in Serie B, sta piangendo anche il Tucumano Pereira, uno dei ragazzi che vengono dal vivaio. È disperato in lacrime Juan Pablo Carrizo, è un dolore incommensurabile. Quello che si legge nei volti di questa gente, la responsabilità di questi giocatori è forte, ma è relativa rispetto alle responsabilità che ha la gestione dell'ex presidente Aguilar, il vero colpevole del disastro del River Plate, colui il quale ha disastrato completamente questo club, lo ha portato alle soglie della banca rotta, lo ha portato a non poter fare mercato, perché questi giocatori non percepiscono lo stipendio da un anno e mezzo. Il River invece, dopo 110 anni, scende in Serie B, scrive la pagina più drammatica della propria storia, apre un buco nero dal quale uscire sarà francamente difficile, se non quasi impossibile.